Il Capogruppo d'Italia Viva in Regione Basilicata, Luca Braia, accoglie con soddisfazione la decisione del Ministero della Cultura di riconoscere entrambe le istituzioni concertistiche e orchestrali lucane, l'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata e l'Orchestra Sinfonica di Matera, una per ogni sede di conservatorio. Ci avevamo visto lungo sulla qualità delle due compagini orchestrali, al di là di ogni campanilistica questione, Matera verso Potenza, dice Braia. Stavolta la nostra Basilicata ne è uscita più che vittoriosa. Non era scontato, per una regione piccola come la nostra, ottenere il doppio riconoscimento dal Ministero della Cultura. Una battaglia vinta da tutti, per la quale avevamo presentato una mozione insieme a colleghi a Cifarelli del PD, con la quale chiedevamo l'impegno ufficiale a Presidente Bardi e alla sua Giunta, a porre in essere ogni azione utile al fine di sostenere, in modo neutrale, i progetti di entrambe le orchestre. La promozione della cultura musicale e orchestrale deve, oggi più che mai, conclude l'esponente di Italia Viva, essere una visione di prospettiva, fuori da ogni logica di interesse di parte o campanilistici, aggregante per l'intera regione e per l'arricchimento della sua offerta di alta formazione, quale quella dei due importanti conservatori. Grazie.